salve a tutti i ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono qua con marchetti 151 dove andiamo signor marchetti andiamo al vulcano pensavo che dicevi di no e mi avevo già buttato mi piace la mia scena tutta brillante brillante bravo non dicevo a te sei zitto chi ti vuole stavo per morire da dalla caduta non ho trovato un'arma non c'è un'arma non c'è un'arma non c'è un'arma non c'è un'arma c'è un'arma c'è una cassa si è morto mira 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 buona 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 ciao maghetti tieni maghetti spera in ben spera in ben oh cavolo vai cavolo levolo mi sa che dopo il nome samsung è accenturato perché mi sa che in tutti gli altri video quando ci sono i nomi di una marca vengono censurati qua c'è il nome della del televisore dov'è è lì lo vedi cosa vuol dire la marca del televisore cosa vuol dire la marca del televisore migretti marchetti facciamo una cosa che muori e io ammazzo bene perché non sai sparare si te lo sai sparare avevi un piccone perchè non l'hai sparato in faccia non è stato spavigliato ma stavo spavigliando ero col tuo sbaglio No, no, tranquillo Non si è vista? La seconda volta mi cade la cosa di Starlink Ok È l'unica volta che più o meno si vede quel coso giallo Quel coso giallo? Sì, quel coso là sopra del coso Non è cinese, mi raccomando Non mi piace avere la roba tarocca Sono nei ginocchi, sono sedi Ma le aranze sì Aranze e tarocco Oh mamma mia Solo per questa battuta dovete lasciare almeno No, faccio una battuta, sapete qual è il prete più scaricato? Donna Load Per queste due battute, anche se la mia non era una bella battuta Dovete arrivare, dobbiamo arrivare almeno 500 like 500 like Ma che ti vogliono approdo Sì sì, approdo avventuriero, avventurato Quanto siamo? Quattro minuti, pensavo sei minuti Quando mai ti ricordi qualcosa, vai, forza Ma non nel mare Mi fa freddo nell'acqua È tutto bagnato Poi ci sono anche le... Vi giuriamo Faremo una vettore reale, vai L'ho guffata fin troppo Ma che ti si fa una vettore reale, veramente? E ma sai come si chiama il frate che sta sempre in mezzo? Fra le palle Sì perché un puzzle va dal dottore Perché ha pezzi? Sì Sì Perché è un programma televisivo No E che cos'è? Non lo so, ho chiesto a te È un programma televisivo No, però ti ho fatto... Però hai fatto una miniatizzata e l'hai fatta Marchetti! Marchetti! Ti sei perché li ha... Sei perché i Giorgi ci fanno la ca... Sento sparare Non ci chiede che è venuta a genere Ah ok, ho fatto più un colpo Non lo rifare... Non lo... Non lo risparare mai più Così almeno non si fa avvitare reale Una mitra C'è una cacca Che è bella Ti levi dalle scatole Sapete come si dice? Come si dice? Hai detto? Eh, come si dice? Giorgi si è presente quando vai dal... Eh, quando... Dicicicicina Non lo so Se quando dici cincina Cosa dici con i cani? Bao Bao Allora, per favore, a meno 500 like Per me che lo sopporto, per favore 500 like e vi faccio 500 battute Perché ho chiamato Batman Capita? La bat tuta La bat tuta Facciamo anche 700 mi piace Cosa è 700? Io c'ho voglia di... Io c'ho voglia di fare qualcosa nella vita A parte lo youtuber Sì sì Ho una pistola Sono troppo potente Ho degli shieldini Sono ancora più potente Sono una cassetta della posta Sono Iron Man Capita? Sono una cassetta della posta Sono Iron Man Sì sì Perché non capisci mai nulla Alte granate No, dammi lo shieldino Chi se ne frega delle granate Ho dieci granate Vi bombardo la vita E la morte Stai sparando sui marchetti Vuol dire che c'è qualcuno Quando? Né come? O perché? O perché? Io ho una jump Jumpiamo via di qua Facciamola un po' di cacà E tutto qua Cosa è la differenza tra Napoleone? Tra la Ficci e la famiglia Sai qual è una buona parte di... A Napoleone è buona parte La Ficci è buona tutta In famiglia, grazie Tutti bene Guardate che figo Cosa? Quella questa faccia Carinissima Con la faccia di mer Giuda, non si dico le peralacce Marchetti, vieni qua Ti porta a spasso come un cane Mi sa che... Aia X Vieni, Marchetti Che ti marchio per bene Vieni qua Sì Ma non sparare Cosa spari? So che non ti piace niente So che non... No, 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 no Non saltiamo Non mi piacciono i salti Perché vengono tanti salti in su Oh cavolo Stavo per ribattarli Questo non faceva riso Scrivete voi nei commenti Una battuta che fa ridere Sì, è una battuta che fa ridere? Quale? Nessuna Perché una battuta fa male No Che ho fatto al mappa Non mettere i calci Guardate, mi sta facendo il parrucchiere col piedi È un apparecchia pidate Oh, no Stavo per fare il batlip Volevo fare il batlip Senti, volevo fare il batlip Abelì, battleflip Scureggia, scureggia No Si è cascato? Mi dai una mano, Margheretti? Margheretti, ciao Margherita 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 Non mi fa tirare le picconate però Siamo appena Dieci minuti Dieci minuti? Davvero? Che cavolo? Che se vuoi aprire? Aspettate un attimo Sì, subito Guardate Ma chi riprende? Non lo so Aspettate che hanno bussato Arrivo Metti stop, metti pausa Pausa Mi è ripreso Scusate Per questa piccola interruzione No Ho finito i materiali 124 Oh Perché ho finito i materiali? Ammazzalo Margherita Margherita Ma stai riprendo di nuovo? No Sono morto Bastante Come osate Se uno ha due Hanno 24 ore di vita Non è vero Le ho tolto 24 di shield Non c'è il cecchino magari? Una mira migliore Guarda qua Una mira migliore ce l'hai? Vai, vai, vai addosso Vai addosso Vai addosso Non c'è una shield Vai Se lo si curano Eccola Con una mira di merda ce la fa Adesso prendi il buco d'aria Non Non è il buco Vai da lì Sparati da lì Sparati da lì Eh ma Non lo cavolo mi rite Ma che Ma che ti fattolo Fattolo dire C'è una mira del cavolo No ho usato la mia jump Curami E lì Vai Ma che ti Sei inutile Ah Questo video può anche finire Ma che ti fai proprio schifo Io vi Mi sto amando Troppo presto Io potrei dirvi anche ciao Ma sto per vomitare Quindi Ciao Ciao